La Sabri Epica, il libro della felicità, su Amazon e in tutte le librerie E buongiorno mia amate pusole, come state? Come state? State bene? Oggi siamo pronti per andare a fare una fantastica giornata, dove? In piscina! In piscina, perché anche se è inverno, fa molto freddo fuori, ci saranno zero gradi Però la piscina è calda, è calda chiusa E non solo, è al coperto E quindi andiamo in questa piscina che è bellissima E' vicino alla casa della Sabri Esatto, è vicino alla casa della Sabri Voi magari avete già visto qualche video, perché noi siamo già andati Si chiama Aquaworld, è precisamente a Concorezzo E ci sono anche un sacco di civoli, vero? Che sono di civoli? Ma voi non avete paura a fare gli civoli? Sì Tu com'è che vai sotto? Cosa che metti sulla testa? No! No, non metti niente sulla testa Per andare sott'acqua Dillo qui alle persone Non lo so Ma mi hai detto prima che tu metti una cosa che va sugli occhi Ok, una macchina Lei mette una macchina sulla testa No, una macchina Ah, no, una macchina, cosa? Una macchera Lei mette un maccherone sulla testa Ah, ma una maschera tu volevi dire Ah, ma non avevamo capito noi E allora ragazzi, adesso devo scegliere Devo prendere il costume che Chloe ha scelto Jacopo, vuoi dire qualcosa al tuo pubblico? No No, no, non vuole dire niente Chloe, me lo prendi tu il costume? Sì Fai mettere le ciabattine di Wonder Woman? Sì Devo metterle Devo metterle braccia qua? No E queste sono le mutande? Sì Sei sicura che questo è il leggiseno? Ah, questo è il leggiseno e queste sono le mutande? Ok, dai, allora vado a metterle E poi ti devo fare che cosa in testa? Cosa mi hai chiesto poco fa? Le tre? Sì Le trecine E tu, amore, tu non puoi venire nella piscina Mi dispiace molto Sì, è vero Stai con picca pelo Stai con picca pelo Così Adesso Chloe mi insegnerà a lavare i denti Ok, come si fa? Così Ah, così, perfetto E poi? Il dentifricio dovevo metterlo negli occhi? No No, dove dovevo metterlo? Pazzolino Ah, solo pazzolino Meno male Perché se no io me lo mettevo negli occhi Adesso Jacopo farà il cameraman E farà vedere che questa giornata inizia con Sabri e Chloe che si fanno le trecine Non puoi cantare questa canzone Non puoi cantare questa canzone Perché la sa? Perché Jacopo ha fatto una parte della canzone Dite un po' che ne presentiamo lo zecchino E quindi è super segreta Perché la sai anche tu, Roberta Dobbiamo fare un attimino la prova del video Faccio una canzone Sì, vai Fai una canzone Non quella Un'altra La prova a balletto, bimbo Seduto? Lui è andato sul divano a sedersi Ma bravo Noi andiamo in piscina Torniamo dopo Ciao, bimbo Dopo subito Siamo appena arrivati ad Acqua War Lei si sta già spogliando Siamo nello spogliatoio Adesso mettiamo la mascherina Perché tu devi sempre tenere la mascherina tra gli occhi Ci mettiamo i costumenti Dobbiamo fare velocissimo Perché il tipo ha detto che tra 5 minuti ci saranno le onde Tu non hai paura delle onde? Tu hai paura delle onde? No, perché tu metti la macchila L'hai presa la macchila, mamma La macchila Vediamo L'hai messo il telo? Ma ti pare che si metta così il telo? Chloe non si mette così Si è attaccata alla scuola Si è attaccata alla scuola Ho preso tanto in giro la Chloe Adesso è successo a me Mi prendi la ciabattina? No, Jacomo Ma sei fatto? Jacomo Jacomo No, attende Spacchi Sì, ti aspetto i braccioli Vai che sono le onde però, eh Ragazzi, venire in piscina D'inverno Con l'acqua calda È una goduria incredibile Sei contenta? Vai, vieni Prendi le onde Adesso Eccola Chloe Si esibirà In un tuffo Con la macchila E Jacomo E Jacomo invece Ci farà vedere una verticale Jacomo invece Non ha bisogno della maschera Ma usa solo gli occhialini Come fai a non respirare dal naso? Dimmi il trucco Respiro dal naso sott'acqua Come respira dal naso sott'acqua? Wow Adesso vengo sotto con te Sei pronto? 3 2 1 Andiamo Bravo Sei pronta? Adesso viene sotto con te la videocamera E nuota E saluta nella camera Via Ma sei alla dorsa, Jacomo Non è molto rilassante Stiamo aspettando Andre Avrò dei capelli fantastici ragazzi Dopo questo massaggio Mi sono fatta tutta la doccia E ho detto a Chloe Che Andre fa sempre la cacca in piscina E quindi sono i giorni che mi chiede Ma Andre cosa fai in piscina? Io ho la cacca E quindi vuole vedere se Andre farà davvero la cacca nella piscina Ovviamente Andre dirà che fa la cacca nella piscina Palesemente Eccolo lì Lui è il mio amico È Maui Hai visto che è Maui? Ciao Maui C'è anche il tatuaggio Ciao Maui Sei arrivato giusto in tempo Perché Chloe Tranquilla Ti voleva aspettare per andare a giocare Andiamo a fare la cacca in piscina? Hai sentito cosa ho detto Chloe? Vieni a sentire un po' Andiamo a fare la cacca in piscina Che io la sto trenendo da ieri Lui deve fare la cacca nella piscina Nella clip prima ho spiegato Che sono due giorni che dico a Chloe Che tu fai la cacca in piscina E sicuramente l'avresti detto nel video Nella speranza di non prendere una bronchite Perché l'ultima volta che l'ho fatto Leterme anni fa mi sono ammalata Voglio provare ad andare con Andre Al percorso esterno Vieni Andre No è che fuori ci sono tipo Beno due gradi Vediamo com'è la situa Allora l'acqua è calda Molto calda Non posso scadare di più se vuole Sei pronto Andre? Mi aiuto Mi aiuto Madonna che gelo Oddio però è bellissimo Devo solo cercare di non bagnare troppo i capelli Fai vedere anche tu che fai la sirena Aspetta Vai Ma ho notato una cosa Hai visto che nello spogliatoio c'è scritto È obbligatorio mantenere il costume in doccia E negli spogliatoi Quindi nel resto no No Puoi fare anche la cacca Ok È tutta la mattina che Chloe mi dice Ma Andre cosa fa in piscina? E la cacca lei ride Beh d'altronde cosa si fa in piscina? La cacca Sì Mi piace sempre la tua ripresa da questo millimetro Ti ricordi quella che ho fatto a Cene? Sì mi ricordo benissimo Ciao Andre E ciao Vuoi fare un appello per la tua futura fidanzata? Mamma dice che sono speciale Tu galleggi Sai che galleggia anche? È la cacca No chissà non fare Che idea hai avuto? È un allenamento che facevamo io e Sandokan Sì Praticamente devi stare lì Sì In quel cerchio bianco Che sicuramente non si potrà fare ma tu lo farai Ok Seduta per almeno 30 secondi Vado Vai Sei via la cacarella? E falla tanto si può Uno Due Tre Tre Cinque Tonifica Sette Otto Non c'è cosa fare Ma tonifica Sì ma tonifica ma ti fa anche venire la diarrea E vabbè È un po' infissa questo video Prova tu Vai Non posso Dai E ho il diabete Ah col diabete non si Sì Mediamento la cacarella Dove andare in bagno Sì Anche a me quando vedo lo speggio ogni volta È incredibile Ciao noi andiamo sugli scivoli Andre Dai Andiamo il ciambellone Un altro Il ciambellone Non sta dure Jacopo aspettaci Dobbiamo prendere le ciambelle Perché ora andiamo sugli scivoli No dobbiamo insegnare a Jacopo Jacopo aspetta devi imparare Grimpiton Devi dirlo Grimpiton Perché vedi è quello là Grimpiton Grimpiton Vi presento un'altra bambina Lei si chiama Paola Vedete Ha il costume diverso No Ah sei sempre tu Col costume di Minnie Topolino Aspettiamo che arrivino Jacopo e Andre Questi non sono Jacopo e Andre Arrivano Oh Aiuto Quanto acqua avete fatto Andre è anche caduto ragazzi Com'è andata? Ma avete cambiato scivolo No non potevamo Per il troppo basso No era singolo Ah era singolo Era singolo il Grimpiton Eh si Com'è andata? Non mi hanno accusato Si si mi hanno accusato certo È arrivato il papà con la bimba davanti a loro Sentidissimo E dicono Arrivano da qua E ve lo diciamo noi Arrivano da qua Allora si è messi in quello bianco È arrivato il nostro momento preferito In che senso? Il cibo Ah Andiamo al ristorante Sto preoccupando che devo fare qualcosa di faticoso io No no andiamo a mangiare Ragazzi sapete che a me Andre La cosa più divertente Più che ci piace nei parchi E che ci riesce anche più facilmente Esatto E mangiare il cibo Quindi andiamo al bar Nel momento più importante della giornata Ovvero il cibo Io ho preso un hot dog Lo vuoi ciaggiare? Si Vai Tenta non scottarti E ciaggia bene Com'è l'hot dog? È buono? Hai detto buono senza neanche averlo assaggiatto Andre ha preso un toast Jacopo cosa hai preso? Anche tu il toast? E quindi buona patita con questo hot dog L'ho detto Eh io non ho dato la maionese Non hai citato la maionese? Allora dai un altro morsino eh Assaggia la maonese? La maonese? Buona la maonese? Raga ho appena fatto una cosa molto schifosa Ovvero Non mi sono fatta la doccia Perché mi sono dimenticata il meglio schiuma Mi sono dimenticata lo shampoo Mi sono dimenticata la spazzola E quindi ho deciso di non farmi la doccia qui Ma me la farò a casa Tu uomo Bravo che ti sei fatta la doccia Ti sei lavato bene? Sì? Con che cosa? Con l'acqua E beh con l'acqua Tu ti sei fatta la doccia? Lei è arrabbata Fai vedere la bua Chloe Fai vedere la bua Ma si è fatta malissimo questa bimba Ma sapete cosa succede adesso? Per fargliela passare Dobbiamo comprare tantissime fragole con la panna Eh? Eh? Le fragole con la panna Abbiamo mandato un messaggio ad Alessio Anzi a Pica come dice lei Di comprare le fragole con la panna Perché Chloe si è fatta male alla gamba E quindi adesso speriamo di trovarle Allora 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 Che freddo ragazzi Piove anche Veramente bello iniziare le clip con allora Comunque continua a farlo Allora sì perché lui mi entra in video e mi dice Inizia sempre con allora 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 volevo dire che Poi purtroppo non ho potuto registrare sugli scivoli Perché per ragioni di sicurezza Non ti fanno registrare Quindi vabbè Però Andrea è andato sullo scivolo Green Python Ah no non è vero Sei andato su quello bianco È vero è vero è vero Adesso però io avevo promesso ieri a Chloe Che lei voleva tanto le fragole Che se oggi avesse fatto la brava Giusto Ho coniugato giusto Gli avrei comprato Sì dovrebbe essere così Le fragole Quindi ci tocca andare a comprare le fragoline a Chloe Tu la sai la strada? Sì che la so la strada Perfetto allora dimmi Ok esci Ok E vai dritto Da qualche parte andremo Andre Ehi là Ti giuro non puoi capire cosa ti è appena successo Hai vinto qualcosa? No In pratica ero dentro E è successo un problema C'era tipo una sparatoria No Un tipo mi ha puntato la pistola e mi ha detto Devi per forza comprare il mascarbone Mannaggia E così io l'ho dovuto comprare E hai dovuto cedere E ora cosa ci facciamo con questa mascarbone che non era voluto No perché infatti mi ha detto Devi comprare il mascarbone e le uova Ma è per far che cosa? E per mangiarle con le fragole Io non le volevo proprio Però cosa fai? Mi faccio sparare? No no non si sa mai Poi E quindi niente andiamo a casa Perfetto Vuoi vedere cosa lo sto preparando? Sì Guarda il mascarbone Com'è? È buono? È buono è buono Lei e Jacopo hanno preparato questo mascarbone Digli un po' gli ingredienti che abbiamo messo Gli ingredienti? La farina Poi? La farina Ma non credo proprio Ma lo zucchero Ah Poi? Poi le uova Poi? Poi un formaggio Poi? Una panna Hai ragione Poi le lumache Formaggio Formaggio E poi E poi? La crema pasticcera L'avete messa? Allora prepariamo Chloe dovete la metto la panna? Sì Da tutte le parti Da tutte le parti? Fai vedere cosa abbiamo fatto prima? Girati Apri Ma che Ma che hai fatto? Lei voleva la panna Buona? Va bene col cappellino? Vai prego Guarda che donna Ferma che puliamo quelle mani lì Ferma Prima me le sono leccate Te le sei lecate Le parti Ma prima me le sono leccate Ah beh Scusi per favore Sei tutta tua zia proprio Tieni Papà ma togli i piatti Vai Ma togli i piatti E ecco po' E devi parlare e dire cosa sta succedendo Abbiamo finito di preparare il mascarpone Eh? E dici un po' com'è venuto Con le panna Con la panna E' venuto molto bene Grandissimo Vai intervistare quello di Smizzo E chiedi che mi ha avuto un mascarpone Il mio è vuota la ciotola Fai vedere quanto gli abbiamo dato a lui E vabbè Pi che era pieno L'ha già finita Quanto è stato bello stare qui in questi due giorni Bellissimo Bellissimo Jacopo ti è piaciuto? Sì Ma fa testa a testa con leone Quindi tornerai a trovarci Chloe? Sì? Fai giurin giuretto così Giurin giuretto Sei capace di far giurin giuretto? Dili non ti libererai Ma ti staccia in mente Va bene Allora scrivete un bel messaggio nei commenti Che così Jacopo e Chloe vengono a leggerli Vero che poi andate a vedere i commenti se sono belli? Lei fa sempre così E poi dili Lasciate un bel like Lasciate un bel Like E iscrivetevi al canale Bravissimo E iscrivetevi al canale Jacopo farà lo youtuber quando sarà grande Adesso per ora si è contenta di giocare con i gattoni Voi là dietro volete dire qualcosa? Sono buone le vostre fragole? Sì Ciao Io voglio fare un youtuber Anche tu vuoi fare un youtuber E quando sarai grande tu Altro che youtuber Youtube avrà chiuso probabilmente Sì